Sono qua anche per sfatare un mito, un falso mito, un stellano ubriacone, prendere anche la categoria dei cantautori, perché non siamo degli ubriaconi. Però è un po' tutto, no? Non solo i cantautori, cioè chi ha il vizio ci si dà un forte. Perché l'arte è così, fai la serata, tantissimi serati. Perché sono bene? Perché l'alcol va con la musica bene. E quando suoni al locale comunque non siamo in posti arabi, quando si suona in posti arabi secondo me si smette di bere tanto. Ma quando si suona in posti arabi secondo me? Io ti vedo bulgari. Io ti vedo bulgari. Bulgara. Questa sera così. Ah ok, questa sera. Io ho altri miti, che tutti i francesi hanno peli lunghi sotto le braccia. A volte no. Dario, è finita la bottiglia. Sei ubriaco. Io non sono ubriaco. No, no. Io non sono ubriaco. Cosa facciamo così? Il mito l'ho sfatato. Vai sfatato. A meno che tu non pigli un'altra bella bottiglia. Però siamo vicinissimi a Francia, non possiamo dire tanta roba. Non siamo vicinissimi a Francia, non siamo vicinissimi a Francia, non siamo vicinissimi a Francia. Grazie a tutti.